Il gruppo Bilderberg, fondato da Rockefeller, tornerà a riunirsi dal 7 al 10 giugno nel 66esimo incontro annuale. Sede scelta per questa edizione è la città di Torino, in Italia. Come da tradizione, l'incontro a cui parteciperanno soltanto in 128 tra ministri industriali e amministratori delegati di multinazionali, vertici di numerose banche e pochi eletti del mondo politico, economico, accademico e mediatico, sarà rigorosamente a porte chiuse. Come avvenute in passato, quando hanno partecipato personalità ai massimi livelli della cosa pubblica come Mario Monti, Romano Prodi, Umberto Ognelli e Franco Bernabè, sono state invitate anche personalità italiane come John Elkan, presidente di FCA, la giornalista Lili Gruber, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, Elena Cattaneo, senatrice a vita e direttrice del laboratorio di cellule staminali dell'Università Statale di Milano, il direttore generale della Banca d'Italia Salvatore Rossi e anche il segretario dello Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. A questi meeting non sono previsti verbali, né relazioni o risoluzioni. Anche se i temi che si affrontano riguardano il presente e il futuro del mondo. I partecipanti possono intervenire senza essere vincolati alle convenzioni dei propri uffici e possono fare uso delle informazioni ricevute durante l'incontro rendendole pubbliche. Unica regola da rispettare è la segretezza della fonte. Perché ci chiediamo noi? Le indiscrezioni vogliono che i temi scelti in questa quattro giorni siano il populismo in Europa, la sfida della disparità, il futuro del lavoro, l'intelligenza artificiale, gli Stati Uniti prima delle elezioni di midterm, il libro scambio, la leadership mondiale degli Stati Uniti e la Russia, il computer quantistico, Arabia Saudita e Iran, il mondo post verità e eventi attuali. Cosa significhi tutto questo? Forse un giorno lo sapremo. Oppure no. Nuovo ordine italiano a Washington per altri 8 F-35. Il contratto, figlio della programmazione stabilita dall'ex ministro della difesa Paola Pinotti, è stato siglato tra Pentagono e Lockheed Martin lo scorso 25 aprile, mentre l'Italia era ancora senza governo. Gli ultimi cacciobombardieri ci costeranno 730 milioni di dollari secondo le previsioni della Lockheed Martin, ma circa 1,3 miliardi di dollari secondo stime indipendenti. Il costo medio reale di ogni aereo è stato finora di circa 150 milioni di euro. Ma per rendere pienamente operativi i 10 velivoli pre-serie già consegnati, sarà necessario aggiornare il software allo standard Block 4, spendendo circa 40 milioni di dollari in più per ogni aereo. Dunque il costo complessivo dei 90 cacciobombardieri F-35 che Roma prevede di comprare è di almeno 14 miliardi di euro, di cui 4 già pagati, più altri 35 miliardi di costi operativi e di supporto logistico per i 30 anni di vita operativa. Ma ora abbiamo un nuovo governo. Il programma elettorale originario del Movimento 5 Stelle prevedeva il taglio del programma F-35. E ora che facciamo, dottoressa Trenta? Nel suo primo viaggio in Europa dopo la riconferma al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin a Vienna, incontrando il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, si è detto pronto a recuperare tutti i canali di comunicazione e collaborazione con l'Unione Europea. Putin ha sottolineato che le sanzioni economiche e diplomatiche dell'Unione Europea contro il suo paese danneggiano non solo Mosca. Le sanzioni sono dannose per tutti ed è nell'interesse di tutti che si tolgano, ha detto dopo l'incontro con il presidente Alexander Van der Bellen. Putin ha ricordato infatti che la Russia ha mantenuto fino al passato recente almeno una ventina di meccanismi di cooperazione e dialogo che per il momento sono sospesi. Da anni la cooperazione con l'Europa è virtualmente congelata, ma, ha precisato il presidente della federazione russa, Mosca è aperta e pronta a riprendere a lavorare insieme. Ai margini degli incontri politici sottolineiamo gli accordi siglati dalla russa Gazprom e l'austriaca OMV per la fornitura di gas validi fino al 2040. Il gasdotto Nord Stream 2, che collega il bacino del Baltico con le coste tedesche, entrerà in servizio nel 2019. Ognuno dei due rami avrà una portata di 27,5 miliardi di metri cubi, il doppio di quella attuale. Costo totale dell'operazione 9,5 miliardi di euro. L'accordo commerciale fra Vienna e Mosca in verità dura da esattamente 50 anni. L'Austria fu il primo paese dell'Europa occidentale a siglare l'intesa energetica con la Russia nel lontano 1968. Fra i partners commerciali di Gazprom troviamo altre compagnie europee, le tedesche Uniper e Wintershall, la francese Angi e la anglo-olandese Shell. L'Iran è candidato dall'Unione Europea a ricevere finanziamenti dalla Banca Europea degli investimenti. La Commissione Europea dunque continua a sostenere l'accordo sul nucleare iraniano e a contribuire alla tutela degli interessi delle società europee che investono in Iran. Da oggi il Parlamento Europeo e il Consiglio di Bruxelles avranno un periodo di due mesi per opporsi a tali misure, prima che entrino in vigore. Senza obiezioni, gli atti aggiornati saranno pubblicati ed entreranno in vigore al più tardi all'inizio di agosto, quando entrerà in vigore anche la prima serie di sanzioni statunitensi. L'Unione Europea è pienamente impegnata a portare avanti l'attuazione continua, piena ed efficacia del trattato nucleare iraniano, a patto che l'Iran rispetti anche i suoi obblighi, ribadisce la Commissione. Allo stesso tempo, l'Unione Europea si impegna anche a mantenere la cooperazione con gli Stati Uniti, che rimangono un partner chiave e un alleato. Intanto, i ministri degli affari esteri e delle finanze di Regno Unito, Germania e Francia hanno scritto al segretario di Stato americano Mike Pompeo e al segretario al tesoro degli Stati Uniti Stephen Mucin. L'intento dichiarato è confermare l'impegno all'attuazione dell'accordo. Nella lettera, datata 4 giugno, i ministri, esortando Washington a risparmiare le aziende europee dalle cosiddette sanzioni secondarie, individuano le aree chiave per cui chiedono l'esenzione. Prodotti farmaceutici e sanitari, energia, settore automobilistico, aviazione civile, infrastrutture e banche. Questo perché un ritiro dell'Iran dall'accordo nucleare, sottolineano i ministri europei, potrebbe ulteriormente sconvolgere una regione in cui un conflitto ulteriore sarebbe quantomeno disastroso. L'acquisto di qualsiasi apparecchiatura militare è una decisione sovrana su cui nessun paese deve intervenire. Sono le parole del ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Altani, che seguono la lettera inviata da Re Salman al presidente francese Emmanuel Macron e pubblicata da Le Monde. In essa si esprime profonda preoccupazione per i negoziati fra il Qatar e Mosca per l'acquisto del sistema di difesa russo S-400 e si ventila un'azione militare per frenare Doha. È una violazione della legge internazionale, ha proseguito Altani, e delle regole del Consiglio di Cooperazione del Golfo, poiché il Qatar non rappresenta affatto una minaccia per l'Arabia Saudita. Perseguiremo tutte le vie legali, ma ogni opzione è sul tavolo, anche quella militare. Proprio ieri, martedì 5 giugno, ricorreva un anno dal blocco commerciale diplomatico imposto al Qatar, accusato di sostegno al terrorismo internazionale, da Arabe Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. In una lettera indirizzata al segretario generale dell'ONU e al presidente del Consiglio di Sicurezza, il ministro degli esteri siriano, Walid Mualem, ha denunciato l'incessante aggressione della coalizione illegittima Guida USA, che ha massacrato civili innocenti ad Al-Asaka, Raqqa e Deir Ezzor come punizione per non aver aderito alle milizie separatiste alleate di Washington. Inoltre, così facendo, continua la lettera, è stata violata la sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale della Siria. Secondo Bonlem, gli Stati Uniti avrebbero cercato di ristrutturare i rapporti con Daesh, reintegrando i terroristi in altre milizie col fine di riconquistare i territori liberati dalle forze governative, in taluni casi supportandoli apertamente con bombardamenti aerei contro l'esercito siriano, l'ultimo dei quali avvenuto il 24 maggio in seguito ad un attacco ISIS nella campagna di Deir Ezzor. La lettera coincide con la pubblicazione di un rapporto Amnesty International che denuncia i massacri dei civili siriani per mano statunitense, francese e britannica avvenuti a Raqqa fra giugno e ottobre dell'anno scorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.